Sono stato creato per salvare il mondo. Gli uomini avrebbero dovuto guardare il cielo per trovare speranza. Sarà la prima cosa che perderanno. Esiste una sola via per la pace. La loro estinzione. Derry è diversa dalle altre città in cui sono stato prima d'ora. La gente muore o sparisce sei volte più della media nazionale. E parlo degli adulti. Per i bambini è peggio. Molto, molto peggio. Ho visto qualcosa. Cos'era? Che cos'è? No, scusa! Eccoci qui. Non solo il nostro intelletto è la nostra volontà di salvare il mondo. Alzatevi e combattete. È impossibile farcela. Non ho impegni domani sera. Tocca sempre a me raccogliere i pezzi. Noi possiamo dividerli dall'interno. Non sai fare di meglio? Dovevi proprio chiederlo. Trazione! Grazie per la visione!